Dal 28 febbraio al 2 marzo, Milano ospita una nuova edizione di Mido, che si preannuncia come un grande successo. Tutto esaurito, con tre doppi padiglioni, un aumento del 10% della superficie espositiva, con 1.200 espositori, di cui 149 new entry e il ritorno alla lista d'attesa. Nuovi padiglioni, che saranno quelli più vicini alla fermata della metropolitana e il layout completamente ridisegnato. Il padiglione 1 sarà interamente dedicato al Fashion District, che ospita i top player dell'highwear mondiale. Il padiglione 3 sarà il palcoscenico delle aziende produttrici di lenti e tecnologie collegate. Qui si trova anche lo spazio Otti Club, un'area polifunzionale dedicata agli ottici, dove si svolgeranno seminari, convegni, corsi e incontri di formazione con traduzione simultanea in lingua inglese. I padiglioni 2 e 4 ospiteranno tre aree tematiche, Fashion District, con le aziende che traggono ispirazione dal mondo della moda, Design Technologies, con le aziende fornitrici di materie prime minuterie e Design Lab, polo d'attrazione per le aziende votate alla sperimentazione. Proprio qui si trova un'altra grande novità, il Lab Academy, uno spazio riservato ad un'accurata selezione di creativi e designer emergenti che partecipano per la prima volta a Mido. I padiglioni 5 e 7 ospiteranno Mido Tech, la più grande area espositiva mondiale dedicata a macchine, materie prime, componentistica e il Far East Pavilion, che vede la partecipazione collettiva delle più rilevanti realtà asiatiche. Confermata la registrazione online con la stampa diretta del badge d'ingresso e il servizio wifi in tutta l'area espositiva. Grande successo anche per il servizio di trasporto ferroviario gratuito dedicato agli ottici, che quest'anno è stato raddoppiato con due treni per Mido e che è andato sold out in pochissimo tempo. L'affluenza si preannuncia altissima, sono oltre 25.000 le pre-registrazioni pervenute. Si riconferma anche per l'edizione 2015 l'iniziativa Best Stand, attraverso cui i visitatori possono votare lo stand più attrattivo e partecipare all'estrazione di un iPad. Al debutto infine il Best Store, un riconoscimento internazionale riservato ai punti vendita del settore ottico di tutto il mondo, che premia il negozio in grado di offrire ai propri clienti la miglior shopping experience. Un'edizione, quella del 2015, che marca l'evoluzione di Mido, un'edizione quindi da non perdere. L'appuntamento è a Rò Fiera Milano, dal 28 febbraio al 2 marzo.